In Nigeria la sofferenza della Chiesa non dipende soltanto del fatto che il sangue è stato versato. C'è l'incapacità di esprimere la propria fede. I cristiani purtroppo sono come una specie in via di estinzione. A Cuba non è impossibile l'educazione cattolica. Sei costretto ad educare i tuoi figli con l'educazione marxista. Però la Chiesa Cuba non si ferma con questa difficoltà. In Iraq a livello umano è molto difficile vedere le nostre Chiese antiche, profanate, distrutte. Il numero dei cristiani che giorno dopo giorno diminuisce. Però noi siamo sale della nostra terra e per il cibo non ci vuole tanto sale per dare il sapore. Grazie a tutti! Grazie a tutti.